Il principale obiettivo di mercato dei giallorossi viene rimosso. Brasiliani manager sulle condizioni attuali, non faremo l'accordo spiraglio continuando nel discorso. Tuttavia, è lo stesso gallo a far capire come le giuste condizioni la negoziazione con la Roma potrebbe riaprire negli ultimi 30 anni mi dice quale stella non è stata venduta da Santos. Come club siamo uno dei venditori più importanti al mondo. Possiamo dare Marcos Leonardo solo se c'era la possibilità di ottenere un grande vantaggio a livello economico e, attualmente, il presidente non è suo agio con la proposta valutazione finanziaria. Parole che sembrano più in cima a Roma che per i fan di Santos. Per rassicurare la piazza. Tuttavia è il resto del discorso fatto dal nuovo manager? Abbiamo bisogno di lui in questo momento. Ci potrebbe essere una possibile negoziazione. Ma per un'uscita nella finestra dell'anno. Questa è la posizione del club. La cosa più importante è farcela perché ne abbiamo davvero bisogno e la finestra del mercato in. Arrivo per noi è già chiusa. Imped poco se il giocatore sembra aver puntato i suoi piedi e sembra convinto di fermare. Immediatamente la sua esperienza in Brasile? Lo capisco perfettamente. Sono stato anche un atleta. So cosa sta pensando. Non possiamo competere finanziariamente con nessun club in Europa ma ci sono momenti per tutto. Questo è il momento di pensare a Santos. Parole chiari. Che tuttavia non sono ancora a conoscenza della chiusura totale alla vendita. Per convincere Santos a lasciar andare uno dei pezzi più preziosi della rosa. Tuttavia, Friedkin dovrà convincersi a sollevare la parte fissa dell'offerta consegnata al Paulist Club. Altrimenti Tiago Pinto rischia di identificare un altro centro in avanti per essere consegnato a Mutinio per rafforzare L di Roma e prendere il posto del ferito Abramo. Tutti nove giorni dall'inizio della stagione. Il tempo delle riflessioni sembra esaurire. In effetti, per il Marcos Leonardo, in Trigoria devono sbrigarsi e soprattutto per presentare un'offerta considerata congrua da Santos. Una missione che appare sempre più difficile. Ma non ancora impossibile. Ora la palla è esclusivamente nelle mani di Friedkin.